di quello che ci stessa di diritto. Il merito non c'entra affatto, ma è vero? Lei sa qualcosa di questa storia, Flemming? Assolutamente no. Ehi, mi è entrato qualcosa nella tuta. Vorrà mica credere a lui, ha apertamente ammesso di aver smanitato i file del mio coppio. C'è qualcosa nella mia tuta? Lo ha fatto? Harry, lo piazzi! Harry, non c'è qualcosa dentro la mia tuta! Non è possibile, è sigillata! Una mosca! C'è una mosca nella mia tuta! Oddio! Non gli tolga il casco, l'ossigeno! No, non toglietelo, l'ossigeno ucciderà la mosca! La vedi? Ecco, guarda, la vedi? No. No? No. No? Se n'è andata? Ok. Chi è il più bravo? Sei tu il più bravo? No, tu sei bravo. Sono il più bravo? Sei tu il più bravo. Ok. Oddio. Mi è entrato dentro! Per amore di tutto quello che mi è sacrosato, lavatemi questa cosa da dentro! Vi prendete la caviaria, apriamolo, leviamogli questa cosa! Col cavolo che ti faccio il regalo di Natale, Giuda! Eccola! Si muove giù per la gamba! Che facciamo? Dovremmo amputare, forse. Eccola sei. Frena, dottore! Non ci sia azzardi! Aira, non farmi tagliare la gamba! Non può fare qualcos'altro, sa, si considera un'atleta. Aspetta, dottore, guardi! Si dirige verso i testicoli! Tagliate! Tagliate la gamba! Aspetti, aspetti, aspetti! Ha cambiato direzione! Coraggio, datemi un forcipe, forse gliela chiappo dentro il colon! Come pensa di entrare? Per via rettale! Prendo la vasellina! Non c'è tempo per la vasellina! C'è sempre tempo per la vasellina! Portatelo! Coraggio! E adesso? Le mutandine! Devi cercare di rilassare! Andrà tutto per il meglio! Certo! Ti schiaffo questa barella nel culo, poi vediamo se ti rilassi, Aira! Ci siamo! Divaricatore! Io penetro! No, non stringere, non stringere! Ma quanto è bravo! Davvero un valoroso! Non ti più! Ancora più a fondo! No! No, più a fondo! Dai, stringimi no! Non stringi forte! Ci siamo quasi! Respiri, respiri! Apriti! Respiri! Sta respirando! Sta per arrivare! È arrivato! È fatta! È finita! È morto! Non ci provi più a fare una cosa del genere! Ehi! No! È tutto ok! Lo sai quanto era grosso il coso che avevi dentro? Così l'hai presa da vero uomo! È tutto passato, è stato bravissimo! Le posso offrire qualcosa? Ha voglia di niente? Un gelato! Vorrei un gelato, per favore! Ah, sì? Quale gusto? Non ha importanza! È per il culo! È per il culo!